Anche gli accordi di major nona e di sesta nona fanno sempre parte della famiglia degli accordi maggiori e possono essere utilizzati per colorare il suono dell'accordo di base. Major nona, prima area, dal capotasto al quarto tasto. Seconda area, dal sesto al settimo tasto. Terza area, dal decimo all'undicesimo tasto. Accordo di sesta nona, prima area, dal secondo al quarto tasto. Seconda area, dal settimo al nono tasto. Terza area, dal nono al dodicesimo tasto. Seconda area, dal fenomeno tasto. Grazie a tutti.